Siamo tutti bentornati in questo nuovo tutorial su come risolvere questo errore di Roblox che sarebbe l'applicazione ha rincontrato così un errore irreversibile quindi in questo caso basta risolvere questo errore attraverso la proprietà del sistema eliminando la cartella dei cache di Roblox e poi reinstallare così l'applicazione ovviamente ho detto già tutto però ti consiglio di guardare tutta la guida per capire meglio come fare quindi in questo caso fate tasto Windows più R fate esegui oppure come ho detto tasto Start più R dovete scrivere sysdm.cpl sysdm.cpl e fate ok aprirà così questa proprietà del sistema andiamo un attimo su avanzate su impostazioni e qui sul dump della memoria va messo il dump della memoria completo come puoi vedere anche nell'errore c'è scritto crea una memory dump del dump della memoria completa e fai ok una volta fatto devi riavviare il computer una volta creato così il dump della memoria completa chiudiamo un attimo qua andiamo sul tasto Start più Windows dobbiamo andare nella cartella di Local AppData quindi percento AppData scendiamo fino a giù fino a trovare la cartella se riesco a trovarla su AppData Local scendi fino a giù fino a trovare la cartella Roblox eccola qua questa cartella pesa 486 MB e contiene più o meno tante immondizie cache cose veramente che bloccano l'applicazione quindi in questo caso tu cancelli questa cartella una volta cancellata chiudi un attimo qua vai sulle applicazioni su installazioni, applicazioni e disinstalli questo Roblox disinstalla Roblox ovviamente dice così perché abbiamo già disinstallato la cartella disinstalliamo qualsiasi cosa che appartiene a Roblox e facciamo ok una volta fatto, cancellato tutte queste cose e disinstallato Roblox devi reinstallare l'applicazione quindi in questo caso vai a reinstallare Roblox lo reinstalli ti farà anche così un update, un aggiornamento e poi ti chiederà di fare l'accesso su Roblox quindi inserisci le tue credenziali accetti e risolvi così l'errore si aprirà Roblox senza problemi quindi in questo caso riguarda la guida se non hai capito commenta se non hai capito iscriviti e lascia like se la guida ti è stata utilissima e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao